Ciao, sono Luisa e sono la presidente della Proloco di Aldeno. Mi chiamo Arianna e faccio parte della Proloco di Ala. Sono Giussi, sono una volontaria della Proloco Caccomune del Mianese. Io sono Nadia e faccio parte della Proloco Castelbelasi di Campodeno. Sono Cristina e faccio parte della Proloco di Campi di Riva. Perché fare parte di una Proloco? Perché mi dà modo di essere vicino al mio territorio, che amo e alla gente che lo abita. Ho sempre voluto dare un esempio ai miei figli di come l'azione, anche una piccola azione del singolo, possa ricadere in maniera positiva su quelle che sono la vita delle altre persone, della comunità in cui si vive. Sono entrata nella Proloco perché ho immaginato che fosse uno strumento per realizzare dei progetti. Sono nata il mondo delle Proloco in un momento piuttosto triste della mia vita. Mi ha aiutato, mi ha aiutato molto a rialzarmi da quel brutto periodo che ho passato. Bene, bene per seguire con tenaccia un obiettivo che porti alla realizzazione di un progetto. Motivare durante quelli che sono i momenti più difficili e più intensi delle nostre attività. La Proloco mi ha anche aiutato a scoprire o a riscoprire un lato più creativo. Questo mi ha portato a portare un po' di bello nel nostro territorio. La parte femminile delle Proloco è fatta di Cantasia, dolcezza e caparbietà. Possibilità, l'estetica e la creatività. Visione di insieme, emotività e responsabilità. Inclusività, la dedizione e la visione. Il tempo, la capacità organizzativa e la capacità di mantenere e valorizzare i rapporti. Aiutare gli altri aiuta anche noi stessi. Musica 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 Grazie a tutti.